I mondiali antirazzisti a Riace parte oggi dalla cittadina calabrese simbolo di accoglienza alla manifestazione della WISP contro ogni discriminazione. I nostri microfoni, la presidente nazionale dell'Unione Italiana Sporta per Tutti, Vincenzo Manco. I mondiali antirazzisti rappresentano da più di vent'anni l'impegno della WISP contro la cultura del razzismo e delle discriminazioni. Attraverso la pratica sportiva, il calcio, la pallavolo, il rugby, tante altre discipline abbiamo promosso una cultura dell'accoglienza. Vogliamo stare dentro i pilastri delle migrazioni di questo secolo, ossia la cooperazione internazionale, l'accoglienza e l'integrazione. Una grande organizzazione di sport sociale come la WISP non può sottrarsi a questo, promuove i mondiali antirazzisti quest'anno anche a Riace.